Ciao, bentrovata sul mio canale, sono da Stefano ovviamente che sono io e bentrovata in questo mio nuovo video. Come spesso accade nei miei video parlerò di relazioni tossiche, amori malati, con narcisisti patologici, borderline oppure psicopatici. Io per correttezza permetto sempre di non essere né uno psichiatra né uno psicologo, sono un giornalista regolarmente iscritto all'albo che però, ahimè, ho attraversato alcune relazioni tossiche, ho fatto il mio percorso virtuoso e ne sono uscito bene. In questi anni ho studiato libri scritti da luminari internazionali come Otto Körnberg oppure Sigmund Freud, ho guardato numerosi video tenuti da psichiatra o psicologi, anche italiani esperti in relazioni tossiche. La cosa più importante è che ho partecipato a gruppi e seminari di persone che come me sono state vittime di amori malati. Ho ascoltato molti racconti e ho metabolizzato alcuni concetti che voglio esporre in questi video. Il titolo del video di oggi è Il narcisista umiliato. Allora, prima di iniziare ti voglio chiedere se, per favore, metti i like a questo video così che mi aiuta a far crescere il canale e potrò continuare a far video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa ti voglio dire che se ti interessano i miei contenuti dove parlerò di narcisisti patologici e svelerò qualche tattica che loro usano, iscriviti al canale. Qua sotto c'è un bottone, iscriviti al canale così seguirai tutti i video che farò e avrai anche degli aggiornamenti. Tutto qua, chiuso a parentesi. Il narcisista umiliato. Ti leggerò un articolo che poi posterò qua sotto nelle note dove se tu vorrai andare a leggerlo per intero potrai farlo. Cosa succede, dice l'articolista, se umigli un narcisista? Punto interrogativo. Essere in presenza di un narcisista patologico, ricordiamo il narcisismo patologico è una patologia, è un disturbo di comportamento, un disturbo di personalità vera e propria, inserito all'interno del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, DSM. Quindi è una patologia vera e propria che consta di caratteristiche precise. I narcisisti patologici le più importanti sono senso di grandiosità, il narcisista patologico si sente superiore a tutti. Mancanza di empatia, il narcisista patologico non gliene frega niente se le altre persone stanno male, quindi non ti aiuterà, non sentirà le tue lacrime se piangerai disperata perché magari vorrai un confronto, perché magari vorrai una seconda possibilità, non te la darà perché non empatizza. Terza questione che ha un narcisista patologico è l'estrema invidia, quindi invidia tutti e invidia soprattutto te se sei la partner. Se ovviamente provi qualcosa di bello lui cercherà di distruggertela in tutte le maniere, odierà i suoi colleghi di lavoro, odierà la gente in generale e perché è molto invidioso. Ricorda sempre che un narcisista patologico può essere sia maschio che femmina. Ancora, un narcisista patologico è una persona con un grande senso di diritto, quindi lui può offendere ma odia essere offeso. E quinta caratteristica per inquadrare un narcisista patologico è l'estrema permalosità. Non puoi assolutamente avanzare una critica o fare un appunto a un narcisista patologico perché ti risponderà con una ferocia enorme. Se hai di fronte a una persona con queste cinque caratteristiche stai attenta perché sono le caratteristiche che identificano i narcisisti patologici. Ma andiamo a leggere. Essere in presenza di un narcisista patologico è una prova snervante, dice l'articolista. Per evitare di umiliarli devi costantemente coccolare i loro pensieri. Altra caratteristica del narcisista patologico è il fatto che ha bisogno di continuo nutrimento narcisistico. Ha bisogno che le persone lo adulino. Ha bisogno che le persone lo mettano al centro del loro mondo. Se si sente escluso, si incazza da morire. Perdonami francesismo. Perché un narcisista patologico ha bisogno, appunto, ripeto, di essere al centro dell'attenzione perché è estremamente egocentrico. Devi costantemente coccolarlo. I loro pensieri, i sentimenti, devi capire tu le sue emozioni. Chiaramente lui o lei, narcisista patologico, le tue emozioni non le considera. Perché non avendo empatia vuole tutto per sé ma non lascia nulla agli altri. Ancora. Purtroppo la fragilità del loro ego, dell'ego del narcisista, lo rende quasi impossibile. Quindi è importante essere consapevoli di ciò che accade quando un narcisista viene umiliato. Perché un narcisista patologico, il narcisismo patologico, è un disturbo egosintonico. Ossia si sentono in sintonia con loro stessi, quindi reputano gli altri sbagliati e di certo non si reputano loro sbagliati. Quando un narcisista viene umiliato, subisce una ferita narcisistica. Un narcisista patologico è una persona che è stata umiliata emotivamente in giovanissima età, tendenzialmente dai 0 ai 7 anni. Ha subito degli abusi emotivi, probabilmente in famiglia, e lui si è chiuso dentro per non sentire il dolore, ha lasciato tutto fuori, gli si sono sporcati i neuroni specchio e quindi non riesce a empatizzare. Lui pensa che le persone siano strumenti da utilizzare per poi scartare. Non riesce a vedere esseri umani veri e propri con le loro emozioni, i loro stati d'animo. Assolutamente no. L' narcisista patologico vede soltanto degli oggetti da utilizzare. Se una persona non l'umilia ma lo critica, riapre la ferita narcisistica delle critiche che lui ha ricevuti in infanzia. Ed è per questo che scatena una grande furia narcisistica contro chi lo contrasta oppure lo critica semplicemente e gli fa un appunto. Quindi bisogna stare molto attenti a criticare un narcisista patologico. Per stabilizzarsi i narcisisti potrebbero usare la rabbia narcisistica, come ti dicevo prima, l'autovittimizzazione e lo scarto per riprendere il controllo delle loro emozioni. Ti potrebbe scartare. Se tu offendi un narcisista patologico oppure lo critichi, lui sai cosa fa? Non ti risponde al telefono. Oppure sai cosa ti dice? No, non sei fatta per me. Ciao, ci lasciamo. Perché lo fa? Perché è un'esplosione di rabbia. Però non ti lasci in maniera definitiva. Quando ti lasci in maniera definitiva lo fai in maniera più... Lo capisci perché è una persona che lo vedi già da prima che ha qualcosa da nascondere. Prima. Quando lo vedi sempre più distante, a un certo punto cosa fa? Ti lascia magari bloccandoti oppure senza darti spiegazioni. È lì, è una chiusura definitiva che significa potrebbe stare alcuni mesi senza farsi vedere. Poi ovviamente tornerà perché un narcisista patologico al 90% ritorna sempre dalla preda, dall'ex lasciata. Quindi quando si arrabbia fortemente ti potrebbe lasciare ma capisci che tornerà perché è una cosa che lo fa per rabbia, non lo fa perché la sta calcolando. Lo fa di getto e quindi lo potrebbe lasciarti, potrebbe piangere di fronte a te, vittimizzarsi se del tipo covert, il coperto, il narcisista coperto. Ricordiamo che i narcisisti possono essere overt, che sono persone molto esuberanti, o covert, che sono persone timide, che usano il muso, il bronzo, il muro del silenzio, per far sì che tu faccia quel che vuole lui. Quindi potrebbe vittimizzarsi, potrebbe riprendere il controllo dell'emozione, come ti dicevo, attraverso uno scarto rapido, rabbioso. Come rispondono i narcisisti all'umiliazione, punto interrogativo. L'obiettivo principale che i narcisisti hanno quotidianamente è quello di accumulare quanta più offerta narcisistica possibile. La classica, il classico nutrimento narcisistico, cioè più tu lo aduli e più tu sei amica, diciamo, sei importante, più tu lo critichi e più ovviamente diventi una grande nemica. Il termine offerta narcisistica si riferisce alla convalida, come ti diceva, all'ammirazione che gli altri devono dare al narcisista, alla rassicurazione che i narcisisti ottengano dal loro ambiente esterno, perché ricorda che il narcisista patologico è una persona fragile, ha bisogno delle adulazioni altrui per vivere bene, perché sennò si sente un signor nessuno, o una signora nessuno. Quindi ha bisogno di continuo nutrimento narcisistico, quindi cosa significa? Ammirazione. La ragione per cui l'accumulo di offerta narcisistica è così importante per un narcisista è perché lo usano per costruire la loro autopercezione, cioè il narcisista pensa più io sono ammirato e più veramente valgo, più nessuno mi considera e più io non valgo niente. Cioè non ha una propria percezione di sé, ma la percezione di sé l'ha attraverso l'ammirazione degli altri. Cioè quello è il grado di autostima, diciamo. Si ritiene che il bisogno di un narcisista di costruire la propria autopercezione con un'offerta narcisistica derivi da un'educazione infantile abusiva, come ti dicevo prima. A causa di questo malsano sviluppo cognitivo loro, i narcisisti hanno un'intelligenza emotiva necessaria per gestire queste emozioni dolorose. Non hanno una emotività necessaria e sviluppata per poter gestire una persona che gli fa una critica. Ed è per questo che la rabbia narcisistica viene scaturita dalla critica che tu, magari, che una persona gli fa. Quindi l'umiliazione del narcisista è rapida ed è una cosa molto diffusa. Quindi quando hai a che fare, sembra, quando una persona che è di fronte a tutte le caratteristiche tipiche dei narcisisti patologici taglia l'angolo, non provare a criticarlo, fargli capire le cose come stanno perché non ti capirebbe e in più genereresti una grande rabbia in lui, nel narcisista. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda e ripeti il motto l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico perché la conoscenza salva la vita. Tutto qua. Se ti è piaciuto il video clicca i like. Ciao da Stefano.